salve a tutti mi sono state chieste da tempo e avevo detto che insomma avrei finalmente poi fatto un video sulle otto competenze chiave europee e adesso lo valutiamo allora questo percorso storicamente nasce nel 2006 fino ad arrivare al 2018 molti mi dicono ma devo se richiesto devo parlare delle competenze del 2018 ovviamente si devono affrontare quelle più aggiornate quindi assolutamente quelle che dobbiamo considerare sono quelle del 2018 quindi sono chiamate anche le competenze chiave di cittadinanza che sono sicuramente collegate con la normativa italiana e in particolare riguardano il tema di scuola e didattica quindi anche nella progettazione didattica vanno considerate queste otto competenze esse garantiscono il pieno sviluppo dello studente e riguardano quindi temi di formazione, istruzione, orientamento al lavoro e benessere quindi gli argomenti cardine o principali possiamo dire benessere della persona sicuramente formazione la formazione sicuramente orientata al benessere perché dà autoconsapevolezza ci dà la possibilità di comprendere ed è il benessere e la formazione sono anche orientati è tutto un collegamento al fatto di trovare il lavoro perché ciò che ci rende libidi ciò che ci dà il pane da mangiare è proprio il lavoro ovviamente quindi sono tutte implicazioni correlate e collegate l'una con l'altra e quindi le competenze chiave europee sapete benissimo che sono otto e gli stati membri dell'Unione Europea sono invitati a riceverle facilitando l'acquisizione da parte di tutti gli studenti sono delle raccomandazioni e sono relative all'apprendimento chiamato permanente ed è stato approvato nel 22 maggio del 2018 l'ultima versione aggiornata come molti di voi mi hanno detto ovviamente se sono competenze ormai siete diventati bravissimi le competenze sono un insieme di conoscenze, abilità e anche un atteggiamento, un modo di fare quindi conoscenze più abilità più sicuramente la specificità quindi il modo di fare della persona però per noi può anche bastare conoscenze e abilità poi ci sono le competenze chiave noi vogliamo poi il fatto che siano europee ovviamente contraddistinguono il fatto che a maggior ragione saranno anche italiane sono chiave quindi adesso vediamo perché la parola chiave perché sono indispensabili tutti tutti ne hanno bisogno servono per sviluppo personale per lo sviluppo personale il trovare lavoro quindi trovare l'occupazione trovare un'inclusione sociale che sono poi tutti i temi che vengono trattati il tema dell'inclusione anche nella scuola una vita sostenibile la sostenibilità salute e un ruolo di cittadinanza attiva quindi cittadinanza quindi avendo fatto queste premesse possiamo cominciare a vedere quali sono le otto competenze chiave allora la prima ok facciamo così va però mi interessava pure uno zoom della tabella voglio vedere se riesco a farlo altrimenti si allora sicuramente la posso allarcare la seleziono mi dà la possibilità di allarcarla però io vorrei variare anche all'altezza altrimenti poi faccio uno zoom questa per spostarlo forse per ora poi me lo studio perché la prima volta che uso questa funzione per ora faccio uno zoom e lo risolvo così me lo metto tutto a sinistra ok me lo abbasso e cominciamo a scrivere quindi la tabella uno due tre quattro cinque sei sette otto a questo punto siamo costretti a diminuire lo spessore quindi competenza alfabetica funzionale questa è la prima la seconda competenza multilinguistica poi cominciano ad esserci le competenze o la competenza matematica e la competenza in scienze e tecnologie importantissima la quattro competenza digitale con noi alla quale possiamo sicuramente connettere le tecnologie innovative di comunicazione la competenza personale sociale a cui è connessa quella famosa frase imparare ed imparare poi vi sono la competenza sociale e civica in materia di cittadinanza quindi competenze in cittadinanza la competenza dovuta al lavoro quindi imprenditoriale e dovuta alla cultura e alla consapevolezza della persona quindi la consapevolezza scusate competenza sulla consapevolezza e sulla cultura adesso tolgo lo zoom tanto mi avete ascoltato e arrivato ad utilizzare questa funzione benissimo allora la competenza adesso cerchiamo di dare una spiegazione ad ognuna di esse una spiegazione sintetica per dare comunque una idea di massima delle otto competenze chiave europee quindi la competenza alfabetica funzionale si concretizza quando lo studente ha piena capacità di comunicazione in forma orale scritta nella propria lingua quindi ci deve essere la capacità di fare autocritica la capacità di autovalutazione la capacità di avere anche una considerazione degli altri e di un principio di realtà quindi sintetizzando capacità piena o piena capacità in comunicazione ovviamente scritta e orale e sapete che la comunicazione orale non è solo quello che si dice ma è come si dice perché quando si comunica l'abbiamo visto c'è tutto quello che viene verbalizzato e tutto quello che è paraverbale la competenza multilinguistica prevede la conoscenza di diverse lingue con conseguenze con conseguente abilità nel comunicare anche qui sia oralmente che verbalmente queste lingue e tale competenza permette di adattarsi e di inserirsi in contesti socioculturali diversi dal proprio quindi conoscenza di lingue utili a più che viaggiare cioè anche la possibilità di poter lavorare in un futuro in un luogo diverso perché detto a viaggiare sembra quasi una cosa ludica un hobby utili a contesti socioculturali diversi a contesti diversi e ho detto che qui vi scrivo proprio la sintesi della sintesi le competenze matematiche scienze tecnologie in realtà anche ingegneria sono quelle che permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità in campo scientifico e tecnologico quindi sono tutte quelle regole che ci permettono di comprendere le leggi naturali di base e regolano la vita sulla terra quindi conoscenze utili a risolvere i problemi quotidiani della natura natura intesa ovviamente come fisica chimica scienze ingegneria ovviamente una conoscenza matematica non è una conoscenza psicologica perché i problemi possono essere anche di natura psichica o psicologica competenze personali sociali e la capacità di imparare e di imparare il quarto no il quinto punto non ho parlato quindi della competenza digitale prima c'è la competenza digitale quindi è la proprietà di usare nuove tecnologie con finalità sia di istruzione che di formazione e lavoro nuove tecnologie che danno maggiori possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale quindi di istruzione di formazione perché questo bagaglio poi deve essere speso ci si forma per poi poter utilizzare questa formazione in un contesto lavorativo e quindi l'ultimo step è il lavoro quindi sicuramente fanno parte di questa competenza l'affabilizzazione informatica la sicurezza online la creazione di contenuti digitali e così via discorrendo le competenze personali sociali e la capacità di imparare e di imparare significano che lo studente deve saper gestire il proprio tempo il proprio percorso di vita di formazione e carriera gestione del tempo dando anche contributi sociali come quello che cerco di fare io nel sociale bisogna e poi tutto quello che ne deriva quindi l'autoregolamentazione spirito critico eccetera eccetera sono tutti elementi di crescita personale da qui poi deriva la competenza successiva che è quella di cittadinanza cioè possedere tutti gli strumenti le skill che ci consentono di agire come cittadini consapevoli e responsabili partecipando la vita quotidiana cittadini consapevoli consapevoli responsabili attivi spirito imprenditoriale e consapevolezza e cultura quindi con la competenza imprenditoriale si traduce nella capacità di analizzare la realtà e trovare soluzioni a problemi complessi utilizzando quindi un pensiero strategico e una riflessione critica analisi e soluzione relativi alla realtà la competenza in materia in materia di consapevolezza ed espressione culturale è relativa alla conoscenza quindi a proprio patrimonio culturale e alla capacità di creare un legame costitutivo tra elementi diversi magari cercando di comprendere anche le relazioni che intercorrono tra questi elementi quindi interconnessioni funzionali ma date bene che anche la nostra mente funziona per connessioni le sinapsi non sono nient'altro che connessioni tra neuroni che stimolano poi il linguaggio e il pensiero benissimo se vi è piaciuto il video ve lo dico sempre alla fine perché io me lo dimentico mettete un mi piace condividetelo se ne volete altri lasciatemi dei commenti iscrivetevi e che dire alla prossima